Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno e rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, nella puntata di oggi parliamo essenzialmente di due argomenti. Il primo, il principale, è il piano colao, di cui i giornali parlano da un po' di giorni, noi non abbiamo mai parlato qua su Io non mi rassegno, quindi è giunto il momento di rimediare. E il secondo è invece la dichiarazione di emergenza climatica approvata ieri al Senato italiano. Prima di cominciare, come ogni giorno, vi ricordo che sulla pagina rassegnastampa di Italia che cambia.org trovate tutte le notizie di cui parlo e anche altre notizie che semplicemente vi segnalo, ma che non facciamo in tempo a trattare qui nel podcast, ma che appunto vi aiutano ad approfondire le notizie, insomma, i fatti più interessanti della giornata. E da qualche giorno, sempre sulla stessa pagina, rassegna stampa, trovate anche in alto, sopra al video, dei pulsanti per seguire. Io non mi rassegno anche sui nostri canali WhatsApp, Telegram e sulla newsletter dedicati appunto alla rassegna stampa, così siete sicuri che non vi perdete neanche una puntata. Va bene, cominciamo parlando proprio del piano colao, perché l'argomento ha tenuto banco sui giornali negli ultimi giorni, allora è arrivato il momento di andare a sbirciare cosa c'è dentro a questo piano e che cos'è e cosa prevede appunto. Facciamo innanzitutto qualche passo indietro, perché non ne abbiamo mai parlato e quindi cerchiamo di riassumere un po' le puntate precedenti. A inizio aprile, in una delle storiche, celebri conferenze stampa che hanno caratterizzato quell'epoca storica nota alla cronaca come fase 1, il premier Giuseppe Conte aveva annunciato che avrebbe creato una task force di esperti per la ripartenza e che questa task force sarebbe stata composta da sociologi, psicologi, esperti dell'organizzazione del lavoro e sarebbe stata guidata appunto da Vittorio Colao. Il compito di questo gruppo sarebbe stato quello di elaborare un piano per la ripartenza, per far ripartire l'economia italiana rispettando le misure di sicurezza e magari approfittando della situazione per innovare un po' il nostro sistema paese, quindi dal lavoro alle infrastrutture alla burocrazia. Questo era il compito generale. Chi è Vittorio Colao? Vittorio Colao è un manager noto soprattutto per essere stato per un po' di tempo l'amministratore delegato di Vodafone e questa task force che è stata formata un po' attorno alla sua figura, io me la sono andata a vedere, in realtà se la guardate, se l'andate all'analizzare, non è che sia proprio piena di psicologi e sociologi, perché c'è uno psichiatra, c'è un professore di sociologia, ma per lo più sono professionisti che arrivano dai mondi delle banche e delle imprese sostanzialmente. Ad ogni modo, questa task force ha lavorato per circa due mesi e ha prodotto questo piano per la ripartenza, che è stato pubblicato qualche giorno fa. Ovviamente non è una legge, nel senso che la task force dal punto di vista giuridico non è niente, ha solo il compito di consigliare al governo quali sono le strategie da adottare per far ripartire l'economia italiana, ma niente di più. Solo che, visto che ovviamente è stato il governo a assegnargli questo compito, si presume che poi un minimo stia a sentire questi consigli e poi che si muova dal punto di vista legislativo anche di conseguenza a questi consigli. Il piano è composto da oltre 100 schede, 121 pagine di analisi che sono divise in sei grandi aree di intervento. Ve le elenco. Allora, la primaria è imprese e lavoro come motore dell'economia, la seconda è infrastruttura e ambiente come volano del rilancio, la terza è turismo, arte e cultura come brand del paese, poi c'è pubblica amministrazione alleata dei cittadini e delle imprese, istruzione, ricerca e competenza come fattori chiave per lo sviluppo e infine famiglie e individui in una società più equa e inclusiva. Ok, questo è il quadro e le aree generali del piano Colau. All'interno di questo piano però ci sono un sacco di punti di cui alcuni sono stati anche criticati abbastanza speramente, per esempio lo slancio che si vuole dare alle grandi opere sia digitali, quindi diciamo la spinta all'infrastruttura del 5G in tutta Italia, che soprattutto materiali che sono state anche quelle più criticate, diciamo come il TAV, il TAP e così via, quindi addirittura si ripara del ponte sullo stretto di Messina. E poi c'è stato l'incentivo alla creazione, cioè diciamo si consiglia di incentivare la creazione di catene turistiche nazionali al posto di strutture più piccole e più localizzate, quindi diciamo di provare a spingere un tipo di turismo che non sia un turismo piccolo ma sia un turismo su scala nazionale con grande strutture per fare il turismo di massa sostanzialmente. C'è la proposta di un condono fiscale, altro punto molto criticato, poi sicuramente ci sono anche aspetti più condivisibili come una certa sburocratizzazione dell'apparato statale o l'idea stessa di una società più inclusiva ed ugualitaria. Però ecco, complessivamente, senza andare neanche troppo nello specifico, perché poi se volete vi lascio comunque i link agli articoli per approfondire, ma complessivamente l'immagine che mi arriva è che dietro a questo piano c'è un po' un'idea di futuro che è un po' già vecchia, già morta e sepolta. L'idea di uno stato impresa efficiente, digitale, dell'ambiente come volano dell'economia, il turismo come brand del paese, è vero che questa roba in Italia non l'abbiamo mai fatta per bene, non l'abbiamo mai neanche provata a fare veramente, ma d'altre parti l'hanno fatta e sostanzialmente non funziona. È l'idea dello sviluppo sostenibile, del disaccoppiamento fra crescita economica ed emissioni climaalteranti, è una roba un po' vintage, un po' anni 90, massimo primi 2000, ma insomma non funziona, l'abbiamo già visto ormai anche con studi scientifici, pubblicazioni scientifiche. Adesso siamo in un'epoca storica che è molto diversa da quella lì, dobbiamo preoccuparci di adattamento climatico, di resilienza, di consumare molto meno risorse, quindi magari di economia circolare, di andare verso modelli in cui non produciamo rifiuti, dobbiamo smettere di bruciare qualsiasi cosa, fare meno, fare meno cose sostanzialmente, e il futuro ha cambiato radicalmente faccia in questi anni, e il virus fra l'altro è l'ennesimo campanello di alarme che ce lo ricorda, solo che Colao probabilmente non sembra essersene accorto. Detto questo, quindi insomma il piano Colao è bocciato, vogliamo dire così, non lo so, comunque questo è, ho provato a raccontarvi quello che prevede e a darvi un po' qualche chiave di lettura, poi fatemene quello che volete ovviamente. Nel frattempo però il governo qualcosa di interessante l'ha fatto, perché ieri è stata approvata in Senato una mozione, la mozione sull'emergenza climatica, con 22 punti di intervento, fra cui ve ne elenco alcuni, la riduzione di emissioni di energia carbonica, la decarbonizzazione della società, dell'economia, interventi di mitigazione e prevenzione del dissesto idrogeologico, l'inserimento in costituzione della tutela della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, vabbè sullo sviluppo sostenibile potremmo avere qualcosa da dire, ma facciamocelo andare bene, un piano nazionale integrato per energia e clima, ricognizione degli incentivi per l'efficientamento energetico, transizione verso il modello di economia circolare, riduzione dei sussidi ambientali dannosi e delle politiche del trasporto. Insomma, sono una serie di punti di intervento sicuramente interessanti, che riassumono un po' varie idee che circolavano già da anni, sia nei movimenti ambientalisti, sia, insomma, nell'idea più generale di una transizione ecologica della società. Ovviamente, come ogni dichiarazione di emergenza climatica, non c'è gran che di operativo, sono più delle dichiarazioni di intenti abbastanza vaghe per adesso, però è qualcosa che magari può tornare utile, a cui si può fare riferimento quando si va a scrivere una legge, ad esempio, a cui possono appellarsi anche gli amministratori locali. Insomma, non saranno sicuramente queste dichiarazioni a salvarci dal disastro climatico, però qualcosa di interessante magari eccoci si può fare. Va bene, io ho terminato i miei argomenti, oggi incredibilmente siamo rimasti entro dieci minuti, quindi ne approfitto per non sforare. Vi saluto qua, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un mi rassegno sempre alle dieci, sempre per dieci minuti e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!